benvenuti a questo secondo tutorial per far vedere come compilare il modello di presentazione della domanda per l'inserimento in gradatoria permanente a da 24 mesi abbiamo due opportunità o compilare il modello b1 per chi fa un nuovo inserimento e per la prima volta si inserisce per un dato profilo nella gradatoria 24 mesi oppure il modello b2 per chi richiede l'aggiornamento della gradatoria per essere già presente in un determinato profilo chiaramente il modello b2 può essere compilato da coloro che già sono inseriti e il sistema li riconosce come inseriti in gradatoria nel fatto del caso in specie se andassi nel modello b2 poiché una persona non inserita in già in gradatoria permanente dirà che l'aspirante non risulta incluso nella gradatoria permanente del personale ata e quindi l'aspirante può recarsi presso l'ufficio di competenza della domanda per verificare la propria posizione assidi per cui in questo caso se non risulta perché non ne ha titolo è un conto ma potrebbe capitare che l'aspirante dovrebbe essere inserito ma visto che non risulta è bene che si presenti in ufficio di competenza per capire il motivo tornando indietro invece andando a compilare il modello b1 l'azione disponibilità di inserimento ci dà la possibilità di scegliere il profilo da selezionare per l'inserimento che potrebbe essere quello dell'assistente amministrativo e si clicca qui e si compila però bisogna avere poi dichiarare di avere 24 mesi in questo profilo oppure di assistente tecnico e la stessa cosa come anche quello di cuoco ha detto le aziende grade collaboratore scolastico infermiere guarda robiere come si nota i profili sono i vecchi profili dei contratti collettivi nazionali precedenti a quello 19 21 che ha modificato l'impianto dei profili ma in questa domanda si rimane con la vecchia tipologia di profilo facciamo il caso dei 24 mesi per collaboratore scolastico per l'inserimento per la prima volta si clicca quasi scrive il titolo di studio per esempio diploma per ragioniere l'anno di riferimento il 1996 97 la data del conseguimento del titolo che risale al 1997 si risale all'anno di riferimento e si inserisce il giorno del conseguimento del titolo e poi si inserirà il nome dell'istituto l'istituto tecnico commerciale per esempio galileo ferraris di reggio calabria la votazione per esempio 98 su 100 si inseriscono i decimali si mette la base di votazione e poi si sceglie il riferimento la modalità di accesso si hanno tre modalità possibili di accesso quella di quando non si è in servizio una modalità di accesso c ma si è inseriti in una data provincia in terza fascia e dunque la scelta deve essere della provincia dove si è inseriti in terza fascia oppure la modalità di accesso a di essere in servizio a tempo determinato in qualità di profilo scelto o profilo superiore oppure di essere della modalità di accesso b di non essere in servizio ma di essere in una gradatoria provinciale ad esaurimento negli elenchi provinciali per le supplenze mettiamo per esempio la modalità c e quindi si devono dichiarare di che l'aspirante dichiara di aver maturato ventiquattro mesi di servizio del medesimo profilo appartenenti al personale alta statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre chiaramente i ventiquattro mesi equivalgono a 23 mesi e 16 giorni con questa dichiarazione si può chiaramente inserire perfettamente la richiesta del modello B1 che risulterà compilato correttamente speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori arriveranno altri tutorial per continuare la compilazione della domanda grazie a tutti 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 grazie a tutti